Il 31 dicembre, giorno di San Silvestro e ultimo giorno dell'anno 2019, presso la Basilica Cattedrale di Lucera, è stata celebrata alle 18 la Santa Messa di fine anno con Canto del Tedeum, presieduta dal Vescovo della Diocesi Lucera Troia, Monsignor Giuseppe Giuliano. Si tratta della Messa di ringraziamento per l'anno appena trascorso, che attraverso il canto di inno al Signore, Tedeum Laudamus, noi ti lodiamo Dio, la comunità cristiana intende, in maniera corale, ringraziare Dio Padre per quello che ha donato. Il Cristo Redentore, che è venuto sulla Terra per salvare il mondo, e nella terza parte del canto, invocare l'aiuto, la benedizione e la misericordia del Signore.